Secondo presidio nel giro di pochi giorni per gli 84 vincitori del concorso dell'Agenzia regionale di protezione civile dal 31 marzo, senza lavoro perché scaduta anche l'ultima ricontrattualizzazione prevista per soli tre mesi. Nonostante le rassicurazioni ricevute nel corso dell'ultimo confronto tenutosi a Palazzo Vitale il 2 aprile scorso dalla dirigente Maria Olga Mugavero e dal direttore dell'Agenzia Sandra Scarlatelli, la convocazione di un tavolo di confronto urgente subito dopo il periodo pasquale non è arrivata, e per questo, come preannunciato, i precari sono tornati in via Genova davanti alla sede dell'Aggiunta per chiedere risposte e sapere quale sarà il loro futuro. Io credo che non si possa arrivare così a ignorare praticamente i diritti di questi lavoratori facendo finta di nulla e lasciando decadere l'avvertenza in un modo, come dire, ma poco poco corretto. Ecco, diciamo che noi continueremo a lottare, continueremo a fare i nostri presidi anche tutti i giorni se necessario, perché comunque attendiamo delle risposte. Loro sono deputati a questo e quanto prima ce le devono dare, in un modo o nell'altro. Ecco, nel confronto precedente quali garanzie avete ricevuto, se le avete ricevute? Praticamente c'è stata accordata una presa di posizione, un chiarimento, però tutt'oggi fatto sta che non è arrivato nulla né presso la mia sede di organizzazione sindacale né agli stessi lavoratori e quindi questo la dice lunga su quali sono le intenzioni. E comunque non si chiedeva altro che poter proseguire il lavoro di questi professionisti per altri due mesi in modo che almeno potessero avere un qualche sostegno al reddito visto che stiamo parlando di lavoratori che sono la maggior parte monoreddito. Poi con contratti davvero part time, quindi cioè di una spesa che non è che superava chissà quali milioni di euro e dare modo di poter accedere anche alla NASPI.